Buongiorno, oggi faremo un esperimento sull'ossidazione del formato nato di potassio. Qui abbiamo un maker con 200 ml d'acqua, a cui è stato 35-68 l'idrossido di sodio. Adesso aggiungeremo qualche pistano di chiamarganazza di potassio. Dopo aver aggiunto il permanganato di potassio, inserite un'escaletta che contiene glucosa. Grazie. Mentre andate a neva e meccanica, il permanganato di potassio passa da viola a blu a verde, a giallo a arancione, perché il manganese si riduce, cioè cambia il suo numero di oxidazione. E ossidare lo zucchero per dentro nelle carica. Grazie. 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 Grazie.